Siamo alla terza edizione, abbiamo più di 400 bambini che fanno parte di sette cori. Alcuni vengono da fuori Marche addirittura, quindi Asti, Piacenza, alcuni nella vicina Romagna, quindi Cattolica, poi abbiamo Senigallia che è della provincia di Ancona ma sempre Marche e sorpresa, sorpresona, quest'anno abbiamo anche tre cori fanesi. Quindi vuol dire che la cultura del coro si è diffusa in tutta la città e siamo molto orgogliosi di questa cosa. Quando verrà questo? Sabato primo giugno ci saranno le audizioni dei cori a Sala Verdi e domenica 2 giugno invece al Teatro della Fortuna. Sarà pieno di bambini e sarà una festa. Vi ricordo che potrete seguire tutta la manifestazione sul canale YouTube dell'Associazione. Abbiamo preso anche la location del Politeama in cui verrà trasmessa in diretta la manifestazione, appunto la gara, dove i genitori e i parenti dei cori potranno assisterla comodamente seduti.